Il sogno dello sbarco dell'uomo su Marte diventa ogni giorno più concreto. Per rendere possibile l'atterraggio di una navicella spaziale con equipaggio umano sul pianeta rosso, la NASA sta testando, non senza problemi, un'enorme paracadute. Grazie a lui, una navicella spaziale composta da esseri umani potrebbe finalmente atterrare sul pianeta rosso, con i suoi 30 metri di diametro al compito di ridurre la velocità d'entrata di un veicolo da Mach 2 a velocità supersonica.